Nel precedente tutorial avevamo visto come gestire concettualmente una situazione di molti a molti ricapitolando abbiamo un database di questo tipo abbiamo una tabella che si chiama t-eventi che è la nostra tabella principale che contiene i campi che ci permettono a catalogare i nostri eventi quindi abbiamo il campo nome evento, data evento che non è altro che un tipo di campo data e un idea evento che è la chiave primaria della tabella t-eventi abbiamo la tabella t-membri che deve permetterci di relazionare la tabella t-eventi con la tabella t-membri che devono essere relazionati affinché possiamo inserire ad ogni evento una serie infinita di partecipanti il tutto viene strutturato tramite una delle relazioni quindi abbiamo un'altra tabella che si chiama t-eventi membri che contiene l'id dell'evento e l'id del membro quindi in questo caso abbiamo le due chiavi cosiddette esterne che si associano alla chiave primaria di membro e di evento infatti vediamo che sono due chiavi primarie quindi abbiamo tre tabelle con una situazione di relazioni molti a molti lo scopo è questo, è quello di creare una maschera principale, eventi dove poter inserire degli eventi e ad ogni evento associare più partecipanti una cosa di questo tipo bene, vediamo quindi come poter creare una maschera e quindi una sottomaschera partendo da zero benché io l'abbia già fatto andiamo in crea e creiamo una maschera, struttura maschera questa è una maschera completamente vuota quando si crea una maschera completamente vuota la prima cosa da fare è quella di andare a cliccare sul quadratino in alto a sinistra e di andare nella scheda dati di selezionare da dove si devono originare da dove prendere i dati, da quale tabella quindi spunto e vado a prendermi la mia t-eventi che è la tabella principale che contiene gli eventi a questo punto, questa è la cosa più importante a questo punto bisogna dirgli appunto però i campi cioè vanno aggiunti dei campi da visualizzare nella maschera quindi clicco su aggiungi campi esistenti viene visualizzata sulla destra un elenco campi e vado a prendermi tenendo premuto CTRL sulla tastiera tutti i campi che voglio che siano visualizzati in questo caso li vado un attimino ad ordinare quindi uso un attimino l'alignamento ma che sia un attimino più ecco qua, se visualizzo in modalità visualizzazione maschera appunto mi ritrovo una situazione di questo genere quindi posso tranquillamente andare ad inserire un evento quindi ad esempio partita x data evento una qualsiasi data e ho creato un evento il che ovviamente non è sufficiente perché ad ogni evento dobbiamo anche poter visualizzare i partecipanti di questo evento benissimo prima di andare avanti però dobbiamo analizzare una query che ho creato che si chiama Qdettagli eventi questa query è importante per creare la nostra sottomaschera perché su questa sottomaschera prenderà come origine questa query questa query è molto semplice non fa altro che prendere tutti i campi di t eventi membri la nostra famosa tabella che contiene di relazione molti a molti e t membri sono in relazione cioè l'id membro in relazione con l'id membro della tabella in questo modo è possibile visualizzare i nomi e cognomi in chiaro si dice quindi non soltanto l'id del membro ma anche il suo nome e cognome se io faccio visualizza foglio dati vedo che vengono visualizzati i campi di t eventi membri però contemporaneamente viene usato il nome e cognome il che va benissimo perché ci permette quindi di visualizzare un dato che sia abbastanza congresso benissimo per poter creare una sottomaschera è abbastanza semplice basta prendere la query o tabella in questo caso una query trascinarla all'interno della nostra tabella principale e andare con la procedura guidata in questo caso ci viene detto nella creazione guidata sotto maschera quale campo deve essere associato alla tabella principale la tabella principale in questo caso è id eventi perché da quella con cui si originava la maschera ci dice che praticamente devo sincronizzare l'id evento con la nostra query con dettagli eventi però ogni record devono essere sincronizzati quindi lui andrà a filtrare automaticamente quelli che hanno i id in comune in questo caso stiamo parlando del campo id evento andiamo avanti e creiamo la nostra sottomaschera quindi sottomaschera con dettagli eventi va anche bene 1 perché è stata già creata però non è un problema clicchiamo su fine automaticamente access si ha creato una sottomaschera che comprende i campi di quella query famosa query che abbiamo creato poc'anzi se io faccio una cosa di questo tipo non è finita ovviamente però ci permette di avere un'idea di quello che è successo innanzitutto possiamo vedere che ci ha messo tutti i campi e l'id evento 1 sono perfettamente sincronizzati questo è dovuto al fatto appunto alla sincronizzazione master che abbiamo visto in precedenza nella procedura guidata per rivederla meglio questo concetto andiamo in visualizzazione struttura selezioniamo la sottomaschera e andiamo a prenderci le nostre proprietà di questa sottomaschera se andiamo a vedere i dati di questa sottomaschera andiamo a vedere che praticamente il i campi master del sono questi qua andiamo a vedere che abbiamo l'id evento che è il campo master della nostra maschera principale quindi il famoso id evento della t event id eventi è il campo che si deve sincronizzare all'interno di questa query e diamolo ok questo meccanismo fa importante da capire colleghe a masse e colleghe a campi secondari perché ci permette di sincronizzare la sottomaschera con un campo in questo caso id evento in modo tale che vengano filtrati automaticamente i dati della sottomaschera benissimo abbiamo visto che abbiamo un formato tabellare questa maschera benché sia una maschera viene visualizzata perché è intelligente e riesce a capire che si tratta di un inserimento tabellare perché è più pratico cioè possiamo andare ad inserire e cancellare i nostri partecipanti tranquillamente per inserirlo però la cosa non è semplice attualmente perché non l'abbiamo ancora finito ovviamente per poter inserire un nuovo membro semplicemente dobbiamo vedere nella tabella team membri il suo id ad esempio mario rossi ed id 4 se io vado per esempio a scrivere 4 ed id membro automaticamente access mi va a mettere il nome e cognome però un utente che deve fare un'operazione di questo tipo ovviamente non è una cosa molto pratica quindi dobbiamo ingegnarci affinché l'utente che utilizzerà questo database possa selezionare da un elenco una casella combinata i vari nomi e cognome andiamo in visualizzazione struttura clicchiamo sul quadratino della sottomaschera e andiamo a fare un'operazione di questo tipo innanzitutto cancelliamo nome e cognome di cancelliamo vedremo perché cancelliamo id evento ed id e lasciamo soltanto id membri perché id membri sostanzialmente non è altro che il numero associato alla tabella membri verrà fuori una cosa di questo genere verrà visualizzato soltanto l'id del membro però non va bene andiamo a trasformare questa casella di testo in casella clicchiamo al pulsante destra del mouse cambia in casella combinata a questo punto la casella combinata farà vedere un elenco visualizzazione maschera eccolo qua ogni volta che c'è ci verrà visualizzato un elenco però bisogna dire da dove deve riempirsi questo elenco quindi selezioniamo la casella combinata questa casella combinata si chiama id underscore membri automaticamente access la chiamata andiamo in dati come origine riga dove deve andare a prendere i dati su cui popolarsi bisogna che appunto creiamo una query da cui prendere i dati andiamo a prendere ti membri aggiungi chiudi prendiamo tutti i campi con sensando contro li trasciniamo dentro a questo punto abbiamo una cosa di questo tipo visualizzazione del foglio dati verranno visualizzati tutti i tre campi di membro nome e cognome salva chiudi se facciamo una cosa di questo tipo vedremo soltanto una colonna andiamo a vedere infatti vediamo che c'è una sola colonna ed è l'id numerico il che non basta andiamo al passo successivo selezioniamo la casella combinata abbiamo la colonna associata va bene che la colonna da cui devi prendere i dati va benissimo però quello che bisogna fare è aumentare il numero di colonne quindi il numero di colonne mettiamo tre già facendo una cosa di questo tipo mettendo tre colonne vediamo una cosa di questo tipo vediamo che si vede di zero tre colonne il che non sarebbe neanche male perché l'utente che deve inserire un utente si ritrova già a tre campi potrebbe andare anche bene però esteticamente vedere un numero così non è il massimo anche perché uno vuole avere sott'occhio tutti i partecipanti a una data per fare ciò si usa un escamotaggio si dice che il numero di colonne devono essere tre però bisogna dire che la prima colonna in questo caso l'id non deve essere visualizzata quindi mettiamo a zero la larghezza della prima colonna un punto e virgola mettiamo a due centimetri la larghezza della seconda colonna se facciamo una cosa di questo tipo vediamo che si visualizzano due colonne e va già bene però cosa succede? in questo caso appunto abbiamo due colonne il che non sarebbe neanche male però il problema è che si visualizza soltanto un campo il che non va neanche bene a questo punto quindi andiamo ancora in id membri andiamo in dati andiamo in nella nostra query cliccando sui puntini andiamo a fare un trucco di questo tipo vado a crearmi un terzo campo che andrò a chiamare nome underscore membro a questo punto vediamo che mi compare espressione nome membro mettiamo i due punti mettiamo nome e ampersand significa che al campo nome deve essere aggiunto una stringa quindi faccio doppio apice ancora doppio apice con uno spazio ampersand e con il campo cognome questo non è niente di difficile semplicemente ha creato un nuovo campo che si chiama nome membro composto dal campo nome più uno spazio più il campo cognome a questo punto vediamo il risultato la visualizzazione del foglio dati e vediamo che infatti ha creato un nuovo campo che si chiama nome membro che contiene il nome e cognome andiamo ancora in visualizzazione delle strutture e cancelliamo questi due campi perché appunto sono superfoli in quanto lo abbiamo uniti in un unico campo a questo punto salviamo chiudiamo e andiamo a vedere cosa è successo nella nostra casella abbiamo appunto che viene visualizzato il nostro il nostro campo a questo punto in modo congro andiamo ad allargare il nostro le nostre quindi in formato diciamo un 4 cm righe in elenco sono l'elenco quindi possono essere ad esempio anche 6 o quante ne vogliamo che verranno visualizzate e appunto vediamo che appunto viene visualizzato il nostro tutti i nostri cognomi possono essere selezionati e cancellati quindi senza nessun problema se cambiamo l'etichetta verrà visualizzato anche nella sottomaschera infatti è comparso un nome membro andiamo a cambiare l'etichetta scelta partecipanti in questo modo appunto abbiamo creato una sottomaschera che è linkata a questa tabella T20 membri che automaticamente viene popolata con i vari partecipanti con l'ID evento andiamo a vedere che cosa succede quindi abbiamo l'ID evento 1 andiamo ad aggiungere un altro partecipante per Paolo Romanelli e andiamo a vedere cosa succede nella nostra e vedete che appunto mi ha aggiunto il membro 1 all'evento 1 e ovviamente ogni volta che andrò a creare un utente un evento potrò associare quindi partita X che è l'evento 5 andrò a associare per Paolo Romanelli quindi automaticamente se vado a controllare in T20 membri lui mi ha aggiunto all'evento 5 il membro 1 che è per Paolo Romanelli ecco questa è la modalità per creare una sottomaschera per poter appunto gestire una situazione di relazione molti a molti che è un'evento 5 che è un'evento 5 che è un'evento 5 che è un'evento 5